Accompagnare le aziende verso le export, capire come si muove la concorrenza, analizzare rischi e opportunità e scoprire nuovi strumenti di promozione. Sono alcuni degli obiettivi del ciclo di incontri gratuiti sull'internazionalizzazione che si terranno alla Camera di Commercio di Prato tra marzo e maggio. Un appuntamento fisso che si propone di trasferire alle imprese strategie e metodi per approcciare nuovi mercati con l'ausilio di esperti professionisti. Il primo seminario è in programma per venerdì 27 marzo alle 9.30. Titolo, sei pronto per l'export? Tutte le aziende ovviamente vorrebbero vendere all'estero, non è facile, quindi non tutte sono pronte o per motivi tecnici o per motivi commerciali occorre prepararsi e noi da sempre cerchiamo di aiutare le aziende proprio in questa fase che è la più delicata perché in qualche modo costi e rischi si attivano immediatamente mentre i benefici arrivano in un secondo momento quindi molte aziende durante questo percorso demordono e quindi noi cerchiamo proprio in questa fase delicata di dare il nostro apporto. Come si articoleranno questi incontri? Sono incontri di circa due ore, un'ora di formazione pura e un'altra ora di confronto tecnico, non sono convegni, sono dei veri e propri incontri operativi, servono per far approcciare le aziende ai mercati esteri, quindi aiutarle proprio nella ricerca dell'informazione strategica, nella ricerca e nell'analisi della concorrenza e soprattutto nella ricerca dei canali migliori per distribuire i loro prodotti. Dureranno fino a maggio e sono gratuiti, per iscriversi basta andare sul sito e riempire un form semplicissimo e partecipare. Vendere all'estero risulta sempre più difficile, richiede professionalità nuove in continua evoluzione. la Camera di Commercio offre una serie di servizi per l'internazionalizzazione attraverso il proprio ufficio dedicato. La Camera di Commercio è al fianco delle imprese con un apposito ufficio? Sì, l'ufficio internazionalizzazione è attivo sempre qui in Camera di Commercio e cerca di accompagnare le aziende in questa fase che, come dico, è delicata, quella dell'inizio dell'attività di export, quelle più strutturate magari non hanno bisogno di noi, ma all'inizio, quando non si sa appunto dove investire, in quali paesi iniziare l'attività di export, noi cerchiamo di essere utili. Questi incontri sono molto efficaci e riscuotono un notevole interesse. L'anno scorso più di un centenaro di aziende hanno partecipato, in particolar modo siamo contenti perché 15 hanno poi seguito dei percorsi di approfondimento, cioè si sono rivolte a noi per approfondire quello che avevano imparato in aula. Per partecipare al ciclo di incontri della durata ciascuno di due ore è necessario iscriversi attraverso il portale della Camera di Commercio di Prato sul sito www.po.camcom.it